Buongiorno Si contenta mente mia, si saggia forte Si va per un livello di scuola Andiamo nella cupola, la nostra finestra sul mondo Ma più vita è salvo, più ha valore e significato la mia vita Le sfide aiutano a crescere, aiutano a gioire, aiutano a soffrire Noi che ci filmiamo, cioè questo è un pezzo di storia È fantastico, stiamo raccontando un pezzo di storia Questo è il nostro Italina Day Non sai che giornata ti aspetta? Ci può essere di tutto là fuori Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti